Buongiorno a tutti, oggi siamo a Voghera davanti al Teatro San Rocco in Piazza Provenza 4 perché domani, sabato 18 febbraio, alle ore 20.45 si terrà una nuova tappa di Oltre Possiamo 2, una comunità che partecipa a uno spettacolo ideato dalla compagnia Oltre un Po Teatro di cui fa parte anche Marco Liva, il direttore artistico che è qui con noi. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Dunque, io so che questo spettacolo parte da una domanda ben precisa. Qual è questa domanda Marco? La domanda ben precisa è che abbiamo in qualche modo constatato e come mai sul territorio, inteso più vastamente, quindi tutta la provincia, sono nati e continuano a nascere dei comitati in difesa del territorio e dell'ambiente. Da questa constatazione abbiamo perlustrato tutta la provincia, quindi dall'Oltre Po dopo la battaglia contro l'inceneritore siamo andati a conoscere altri comitati, le associazioni che lavorano già da tempo e quelli nati da poco e abbiamo constatato tutte le criticità e le urgenze che in questo momento ci sono nella nostra provincia e sono molte. Quello che in qualche modo racconta questo spettacolo. Diciamo che questa lotta continua nonostante l'inceneritore di retorbito alla fine non si farà, è corretto? Sì, diciamo che se vogliamo sotto aspetto scaramantico dobbiamo aspettare ancora un po' di giorni perché decorrano i tempi per un possibile ricorso da parte della società, ma il mese di marzo si dovrebbe chiudere anche questa finestra. Quando eravamo impegnati insieme al comitato contro l'inceneritore il nostro focus era questo. Nel momento in cui la battaglia l'abbiamo vinta, abbiamo alzato gli occhi, ci siamo resi conto che a pochissimi chilometri da qui c'è una prima necessità, il raddoppiamento ad esempio dell'incenditore di Corteolona che in qualche modo ci interessa perché sappiamo benissimo che gli inquinanti viaggiano, non hanno una perimetrazione, una confinazione e poi poco più là la raffineria con le sue criticità la discarica di amianto. Due mesi fa sopra le nostre colline è passata una nuvola enorme per l'incendio che c'è stato e non sappiamo bene che cosa c'era all'interno che cosa è caduto sul territorio. Quindi il nostro perimetro si è un po' allargato ma anche per necessità perché in qualche modo siamo interessati. Fanghi in agricoltura per fare un esempio, non interessa solo l'alomellino e il pavese ma gli eventuali cibi contaminati poi finiscono sulle nostre tavole. Quindi tutto quello che è all'interno della nostra provincia ci interessa. Diciamo che è anche un po' un imito tenere sempre alta l'attenzione e a tal proposito so che questo spettacolo, alla fine di questo spettacolo ci sarà anche un confronto tra il pubblico e i comitati, le associazioni, i sindaci presenti. Quali saranno gli aspetti che verranno trattati durante questo confronto? Indubbiamente la cosa poi su quale stiamo puntando e il motivo per quale ci si ritrova insieme ai sindaci è una maggior coesione nel rispetto ovviamente delle differenze rispetto istituzionale dei confronti degli amministratori locali. Ma in questo viaggio nella provincia abbiamo incontrato tante sensibilità, tanti bravi amministratori virtuosi ed è insieme a loro, insieme ai comitati che vogliamo dire una serie di no insieme per aprire ad altri sì. Quindi è una, come dire, sostenere una battaglia comune. Quindi un comitato che è impegnato sul proprio territorio contemporaneamente sostiene la battaglia e l'impegno di un'altra associazione, un altro comitato e allo stesso modo i sindaci. Ci sarà un incontro sul palco, ci sarà il presidente della consulta Ambiente e Territorio, il sindaco Berneri di Monticelli, il sindaco di Cavamanara che ha vinto recentemente una battaglia contro la discarica di amianto che volevano realizzare lì. Ci confronteremo con loro perché loro sono un esempio di far squadra, in qualche modo, insieme alla comunità. E a proposito di far squadra, l'evento è organizzato con il comitato No Inceneritore a Retorbido. Che tipo di rapporto si è venuto a creare tra la vostra compagnia teatrale e questo gruppo di retorbidesi? Noi siamo assolutamente organici al comitato. Questo è un rapporto che è nato due anni fa, sposando quella battaglia implicitamente abbiamo sposato tutta una serie di questioni, di temi, di idee, di valorizzazione del territorio. Una parola un po' inflazionata, però penso che quello che nascerà dopo questo primo obiettivo sarà una serie di impegni per lavorare per il territorio, insieme a una fase due. So che alla fine dello spettacolo domani sera verrà presentata l'iniziativa intitolata Mostra e dimostra come affamare l'inceneritore. Di cosa si tratta? Ci saranno una serie di persone, di volontari, che dimostreranno separare correttamente tutti i materiali che è tipico della colta differenziata porta a porta, quali sono realmente i rifiuti che poi finiscono nell'inceneritore. E quindi causare il danno minimo sull'ambiente. È una pratica non complessa, le vicende vogheresi sono state un po' sfortunate sotto questo aspetto, ma guardiamo le città virtuose come ad esempio Milano, una città così grande che riesce a fare il porta a porta o altre città. Gli inceneritori fanno male, questo è un dato della comunità scientifica, e quindi usarne meno, noi diciamo affamarli, è il modo per dargli meno materiale possibile da incenerire. Domani sera il Teatro San Rocco Voghera, che cosa accadrà dopo per Oltre un Po' Teatro? Per noi vedremo che cosa raccoglieremo. La tournée continua su tutto il territorio, tutto il territorio pavese, quindi in tutti i territori, Mellina, Pavese, oltrepo, e poi ci sarà una fase, una volta che avremo raccolto tutto, c'è un'idea di un nuovo progetto, un nuovo spettacolo, che abbiamo detto tanti no, ma lo vogliamo dire una serie di sì, perché i no, come dire, tolgono dei pericoli e si aprono altre possibilità. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi, ricordo che lo spettacolo è gratuito e quindi venite, insomma, non sborsate nulla, insomma, anzi.